Ciao Ale Amore mi manchi da morire, sono eccitatissimo Ti prego dimmi che mi vuoi anche tu Sono ad una mostra E non posso parlare E come faccio? Io ti giuro mi stai uscendo dalle mutande Però ho delle foto fighissime Nuda Manda tutto su Whatsapp, ti prego Ci apare Mancano due settimane esatte al nostro appuntamento al cinema E quindi è arrivato il momento di spiegarlo più nel dettaglio E' tutto organizzato compare, tranquillo, ci penso io Ci andiamo a vedere Terminator Genisys in 3D E ti passa a prendere con la macchina, va bene? Tu con chi sei? Insieme a me ci sarà Alessio Viola E chi cazzo è? Volta di Scarigi24 Ma non ce ne frega un cazzo, ok, poi? Poi, niente, possiamo svelare Sì, possiamo svelare, me frega Dai chi è? Francesca Michelin Finalmente una fregna Francesca Michelin Grazie Francesca Michelin Anzi, diglielo te, Lore Grazie Francesca per aver accettato il mio invito e... E basta, dai, siamo in quattro e ci divertiamo così, no? Che dici? Faremo qualcosa di veramente figo insieme Bravo, cinema, pizza, passeggiata Poi magari ci scappa una cosa a quattro con questa, eh? Ci sentiamo in questi giorni? Tutto questo, in questi giorni cercherò di fare varie pillole Limitiamoci alle canne, per favore, Lore Se no poi sbrocchiamo e ci va a merda la serata, va bene? Ciao, Fra A presto OI Gianni, compare, dove state? Allora, siamo a Bologna, un'Ippola Arena Ah cazzo, stai ancora cantando? Ma ce n'è gente? Perda Maria che casino, vabbè compare, chiamami quando finisci No, aspetta, cantiamo Come cantiamo? Che cantiamo? Ah, una cosa nuova Gira sto telefono che non si vede un cazzo Come è venuta? Bene, bene, dai No, una cacata, sono stonate, è oggettivo Comunque guarda, non hai idea di quanto vorrei venire lì da voi in questo momento Vorrei proprio partire e raggiungervi E poi arrivi tu e scendi di me Gianni, non posso, davvero, sono a Palermo Davvero, compare, insisto, sono a Palermo, è impossibile Sono a Palermo, come minchia vengo ora a Bologna Ciao ragazzi, questa era la nostra prima compilation di VipFaicons Sulla nostra pagina Facebook c'è il link qui sotto, mi raccomando Mettete mi piace, potete vedere tutte le puntate singole e altre puntate con altri nuovi Vips E potrete anche vedere la nostra mini webserie che si chiama Infani Storie di pezzi di merda Amici tra di loro che si fanno delle grandi porcate Mi raccomando, alla prossima, iscrivetevi al canale e mettete mi piace sulla pagina Facebook Ciao